Buon pomeriggio fratelli e sorelle bianconere. Allora ho letto anch'io delle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Purtroppo ha avuto un malore ragazzi, sembra che le sue condizioni siano gravi e nel mio piccolo mi volevo unire anch'io ad augurargli un grandissimo in bocca al lupo un grandissimo abbraccio sicuramente, un grandissimo bacio e veramente una grandissima fortuna. Mi raccomando Stefano non mollare, siamo tutti con te, il popolo bianconero è tutto con te, forza e coraggio e dai, ritorna perché noi ti aspettiamo più forte di prima. Forza Stefano, non mollare. Forza Stefano, non mollare. Grazie a tutti.